Ben ritrovati su Meteo Giuliaci, un cordiale saluto da Giuseppe De Vittis. Cosa ci mostrerà l'autunno? Il suo volto buono nella giornata di martedì, soprattutto al centro-sud. Al sud, temperature ben oltre la norma, ma anche sulle regioni centrali, le temperature sono aumentate per la verità, soprattutto in quota anche sulle regioni settentrionali, un po' di nuvole, vedete in transito, nubi innocue sulle regioni meridionali, ma la nuvolosità più convinta si avrà proprio sul nord Italia, con la possibilità, nella seconda parte della giornata, di rovesci di pioggia in transito, anche su zone di pianura, ma più probabili sull'Appennino e sui rilievi alpini e prealpini. Ma, dicevamo, qua e là ci saranno dei rovesci di pioggia, dei piovaschi in transito anche su zone pianeggianti. Nuvole in aumento tra la Toscana, le Marche e l'Umbria nella seconda parte della giornata.